Voglio iniziare ringraziandoti per aver cliccato qui perché grazie a te ogni giorno la mia vita è migliore e spero di renderla anche a te grazie a questi video. Quindi Bitcoin nella settimana ha chiuso sotto questo primo massimo o comunque all time high del 2021 però stiamo già recuperando. È interessantissimo vedere, come nel video di ieri, il pattern di Wyckoff perché non è da escludere i 58.000 dollari o addirittura 52.000 dollari. Non lo escludiamo però se già oggi dovessimo recuperare in giornata questo livello dei 65.500, comunque chiudere così la giornata potrebbe essere anche un pelo bullish. Abbiamo già visto che per tutto il mese c'è la promo su BingX, infatti grazie al bot griglia facciamo profitti, link in descrizione, clicchi e registrati, ci dividiamo un Bitcoin e in più per chi non l'ha mai provato 50 USDT bonus 10 dollari in leva per 5 i bonus o comunque i bot attivabili su Bitcoin e DTH. Siamo in lateralizzazione da due mesi, direi che è il caso di farli magari questi bot o comunque specularci. Comunque andiamo a vedere che a livello di avidità siamo sempre lì sui 60, la giornata oggi è bella rialzista e voglio vedere due cose interessanti. Prima di tutto le altcoin affrontano un periodo di esplosione o comunque di crescita incredibile ogni 4 anni con il classico ciclo dei 4 anni. Al momento, guardando la situazione 2024, siamo proprio nella fase poi di carica. Ho già fatto il video dove compravo 10.000 in shitcoin su Solana, sperando che sia il bottom o comunque vicino al bottom, però c'è un altro dato interessante per le altcoin. Adesso lo guardiamo, quindi fammi vedere e fammi sapere se secondo te siamo in un potenziale bottom per le altcoin. Comunque guardando questo scenario sembra veramente interessante. Telegram in descrizione per vedere sempre queste analisi e rimanere aggiornatissimi. Questo è un ciclo o comunque un grafico molto molto interessante che guardandolo così uno dice che cosa significa? In cui guardiamo i cicli di hype delle altcoin andando a vedere i vari trimestri. Quindi abbiamo da gennaio un potenziale top, metà trimestre di bottom, aprile top, metà trimestre bottom e così via. Guardando la descrizione, perché ovviamente abbiamo la descrizione per capire anche quello che stiamo vedendo, le altcoin stanno seguendo il piano. Le altcoin hanno toccato il minimo all'inizio di febbraio, quindi interessante questo. E hanno ceduto, quindi hanno perso forza intorno all'alving di bitcoin. Quindi magari una settimana fa, due settimane fa, comunque l'alving è avvenuto di recentissimo. Ma abbiamo visto un crollo importante sulle alt intorno all'alving. E secondo questo grafico, il minimo per le alt, il prossimo minimo non vuol dire che da qui poi andiamo a scendere e basta. Però il prossimo minimo per le alt sarà intorno all'estate. Quindi che cosa significa? Guardando la total trim, perché è interessante capire intorno all'estate cosa vuol dire, o comunque metà estate, potremmo avere una ripresa. Immaginiamo sempre scenario di lateralizzazione, quindi immaginiamo una cosa del genere. Immaginiamo una cosa del genere. Quindi un top che va a fare un triplo top magari, o comunque andiamo a lateralizzare di nuovo, perché stiamo lateralizzando, qui già era uno scenario in cui ci ha fatto cagare in mano. Stavamo perdendo un supportone, ma l'abbiamo recuperato con forza. Chiudere daily, anche in questo caso, sopra alla total 3, sopra queste medie, a mio parere è molto bullish. Immaginiamo di avere un mese, ipotizziamo, molto rialzista. Comunque sulla total 3, già fare questo potrebbe essere interessante, un 15%. Sulla total 3, quindi tante altcoin possono fare veramente, non dico il 50-100%, ma quasi. E poi avere di nuovo un bottom. In questo caso andrebbe a costruire che cosa? Anche un trend rialzista. Perché il primo minimo ce lo va a dare qui sotto, e poi considerando invece uno scenario molto più lungo, andremo a vedere che cosa? Proprio tutta questa struttura di massimi e minimi crescenti. E sarebbe interessante vedere se invece qui, quindi magari intorno a maggio, guardando il grafico vediamo se c'era anche un picco. Quindi ad aprile ci ha dato il picco, poi maggio ci potrebbe dare il minimo, quindi consideriamo questo mese ancora un po' incerto. Però è da vedere se adesso ha la forza di fare prima di maggio magari un altro massimo, e poi a maggio, o comunque inizio metà maggio, un minimo più basso, o comunque più alto di questo. È interessante osservarlo. Per quanto riguarda la Total 1, siamo belli, bullish, tra virgolette, stessa situazione, un po' tutto il mercato cripto ci sta dicendo la stessa cosa. Quindi aspettare chiusure. E la Dominance, anche lì, ci sta dicendo la stessa cosa che abbiamo visto ieri. Al momento io questo lo reputo come supportone mantenuto. Certo si può guardare questo livello, diciamo l'abbiamo perso, si può guardare questo, diciamo l'abbiamo perso, si può guardare questo, diciamo l'abbiamo tenuto. Quindi io guardo anche questo qui sotto. Perché vediamo anche un attimo weekly, abbiamo già visto weekly, i corpi sono ancora più in basso, e tanti vari spike possono essere solo rumore. Mettiamo il 5 giorni, che abbiamo già visto di recente sul canale, anche il 5 giorni ci va a dare una... Io andrei a guardare anche questa trend, la involendo, sul 5 giorni, come altro tocco magari minimo, che coincide perfettamente con quel del weekly che abbiamo segnato qui dentro, quindi un 54%. Al momento, in quel caso, andrebbe a dire forza sulla Dominance. Abbiamo visto tantissima forza quando le alt hanno perso un botto, comunque sono crollate tanto, abbiamo visto Shiba meno 50 e tante shitcoin perdere veramente tanto. Adesso stiamo perdendo 3,5 circa su Bitcoin Dominance, quindi le alt stanno facendo un po' di più. Infatti se vedi solo guardando le top abbiamo BTC che è più 1,5 e DA che è più 2. E stiamo parlando delle top 2. Andando a vedere tutte le alt, mettiamolo al volo, andiamo a vedere tutte le alt, come stanno messe. In questo caso, nelle 24 ore, BNB più 4, Solana più 1,5, andiamo a vedere Cardano più 1,25, AVAX 3,5, Chainlink 4,5. Capiamo che le alt stanno performando bene. Nelle 24 ore queste sono quelle che stanno performando meglio per quanto riguarda la top 100. Quindi abbiamo anche un più 14, un più 7. Infatti capiamo che le alt stanno recuperando bene dal bottom che hanno fatto. Quello che appunto continuo a dire in questa situazione di incertezza è la questione del bot. Vatti a leggere tutto quello che c'è scritto in descrizione o comunque guarda i video precedenti perché ne abbiamo parlato ogni giorno, visto che la promo dura fino alla fine del mese. Mancano meno di 10 giorni, quindi approfittane se vuoi il bonus perché è secondo me un'ottima occasione dato che attiviamo un bot a griglia. Possiamo metterlo neutrale o long short, va in wealth, va in trading a griglia e lo attivi tranquillamente quello futures. Fammi sapere cosa ne pensi ovviamente. Qui abbiamo preso volendo il golden level di Fibonacci in questa zona, quindi come minimo e potrebbe essere che ok l'abbiamo preso, basta, siamo partiti. Però ovviamente ripeto, quello che voglio guardare adesso è proprio questa candela. È da giorni, continuo a dirlo perché è da giorni che stiamo sotto, recuperare questa candela, questa media, andrebbe a essere un po' più bullish per tornare sui 72. Quindi tornare in zona top di Bitcoin. È comunque un bel profit, volendo, se dovessimo recuperare. È quasi un 10% solo su Bitcoin, quindi immagina su tutte le altcoin quanto potrebbe essere bullish per speculare e per vedere che cosa? Tutto lo scenario che abbiamo detto prima. Quindi total 3 che magari va a fare un bello spike forte, magari anche nella settimana abbiamo visto alcune candelone verticali, come partono. E poi cosa? E poi magari un bel dump che va a coincidere con l'altro grafico che abbiamo visto rispetto ai cicli. Bene, grazie per essere stato con me oggi. Io ti saluto, ci vediamo alla prossima. Ciao!